Preghiera del mattino Signore, Tu esorti chi Ti ama ad essere perfetto come il Padre Celeste. Fa che il nostro amore per i beni materiali non diventi mai un ostacolo a seguire Te, che dai tanto valore alla povertà. Fa che, come celebriamo il mistero della Tua morte, così imitiamo il Tuo amore perfetto, perché così il nostro cuore sarà là dove è il nostro tesoro. Amen. Grazie